Proseguo i nostri incontri con Giovanni Matera, imprenditore di successo, titolare, creatore dell'impresa Matera Redamenti, autore di numerosi creatore, corsi di formazione, esperto di marketing e stiamo analizzando la sua pubblicazione, una delle sue pubblicazioni, la cassetta degli attrezzi, oggi c'è un capitolo molto bello che già nel suo titolo è significativo, è chiarissimo, piloti o passeggeri nel film della tua vita devi cercare di essere il protagonista, non una semplice comparsa, chi non ha un sogno andrà a lavorare per i sogni altrui, quindi decidiamo la nostra vita in base ai nostri sogni e lavoriamo per noi stessi, per i nostri sogni, non per realizzare i sogni altrui. Sì, in effetti se non hai tu un sogno è chiaro, andrai a lavorare nei sogni altrui, ma perché tu non hai scelto, nel film della tua vita devi essere tu il protagonista, se no devi scegliere se essere trainato o trainare, se essere pilota o passeggero, è una scelta, poi bisogna sapere un altro concetto molto importante, chi dona del tempo ad altri non sarà mai ricco, perché tu vieni pagato per quel tempo, se quel tempo invece lo sfrutta per i fatti tuoi, puoi diventare ricco, ma se quel tempo lo vendi a un'azienda, lo vendi a un'imbredo, lo vendi a un'altra persona, tu sarai pagato per quelle 8 ore che fai, ma oltre quelle 4 ore difficilmente potrai progredire più di tanto, mentre se quel tempo lo dedica a te stesso, hai una tua idea, porti avanti un tuo sogno, quel tempo si espande all'infinito e potresti diventare anche una persona molto più facoltosa di quello che ahimè potrebbe raggiungere un semplice dipendente, questo è un concetto molto importante, ma ripeto, non tutti dobbiamo fare per forse l'impeditura, perché molte volte mi viene rifacciato questo fatto, però tu parli come se tutti dobbiamo, no, chi ha le capacità di poterlo fare, lo deve fare, chi non ha le capacità, è più agevolo per lui fare il dipendente, è tutto rispetto, anche all'interno di un'azienda si può progredire, anzi e vi dico di più, anche all'interno di un'azienda piccola puoi progredire ancora di più, perché se ti fai valere e ti sai distinguere anche in quel caso, perché pure là ti devi saper distinguere, se ti sai distinguere puoi anche là progredire e avere le tue belle soddisfazioni, però ecco, secondo me il mio consiglio è tendere di portare avanti i nostri sogni e così non cadiamo nei sogni altrui.